è soltanto una gallina perché la gallina è seduta sulle uova? le sta covando ora le tiene al caldo affinché si schiudano facendo così uscire i pulcini le uova sono incredibili oh sì, Dougie è un loro grande fan ha persino il distintivo dell'uovo hai dovuto covare un uovo per ottenerlo, Dougie? le uova cominciano a schiudersi uff! un pulcino due pulcini tre pulcini credo che questo stia avendo qualche problema ad uscire una zampa guarda, un'altra zampa guarda, delle galline guarda un topo un polpo un ippopotamo un coccodrillo un rinoceronte un rinoceronte guarda, guarda un grosso cane marrone oh uff guarda un nido un campo una nuvola una staccionata un ramo un sassolino ce ne sono ancora? oh uff ma come facciamo a raccogliere tutte queste cose? non preoccupatevi, lupetti ci pensa Dougie perché lui ha il distintivo del raccolto possiamo usare un trattore uff wow uff 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 forte amico mi piace si, più veloce dai, più veloce va più veloce wow si oh cielo lo puoi aggiustare Dougie? oh uff uff sembra che anche gli altri animali vogliano partecipare al raccolto Dougie, possiamo raccogliere altro cibo? mentre aspettiamo uff uff rezi che gu ECHA! felice bruza gu ru Core gu Sì! 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 Mi piace! Sì, ragazzi! Questa era l'ultima cassa! Sì! Dougie! Abbiamo finito il racconto! Non sono stati bravi oggi i lupetti, Dougie? Oh! Com'è eccitante! Facciamo una torta! Sì! Facciamo una torta! Beh, fatevelo dire! Sembra che stiate usando un mucchio di ingredienti! Uova, farina, zucchero, burro, uvetta e carote! Carote! Non si possono mettere le verdure dentro una torta! Yeah! Sì, invece, faremo una torta di carote per i conigli! Forte! Mi raccomando, state lontani quando Dougie toglierà la torta dal forno! Sì! Perché sarà molto, molto... addolente! Wow! Abbiamo fatto tante piccole torte! Uof! Oh, amico! Forti le torte! Avete bisogno di un po' di movimento! Comincia, Annie! Andiamo, galline! Dateci dentro! E uno e due! Uno, due, tre, quattro! Apolo a tutti! La world of the profoundly down! Comincia, sono un po' di muezzato! Vivera! Pogginal! ma non c'est lo di più! Anche le? Quattro a tutti! cloud. Ausosi! Viatron! 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 Viva! Viatron! Viatron! così si può a galline abbiamo un codice blu su quelle mani che cosa facciamo? non preoccupatevi lupetti Duggie è preparato a questo tipo di emergenze sì, per contenere qualunque dispersione dobbiamo restare esattamente dove siamo anche Rolly specialmente Rolly ma dov'è Rolly? dobbiamo riuscire a trovarlo ed impedire al formaggio di diffondersi guardate, Rolly è passato di qua blu è ora di decontaminare con un po' d'acqua ed uno straccio pulito guardate, c'è dell'altro blu ci penso io mi ha trovato un po' ce n'è anche qui e qui e qui sembra che ci sia una grossa macchia di blu proprio qua, lupetti aspettate, c'è del blu qui sembra portare verso... l'eserlo! deve essere qui fuori da qualche parte uccelli! eccolo là! uccelli! ma adesso come facciamo a prenderlo? uccelli! a wolf siete proprio sicuri che questo funzionerà? sì c'è giusto il tempo per un'altra cosa un dagli abbraccio dagli abbraccio